e buongiorno cari buongiorno a voi dio vi benedica oggi voglio fare un video diciamo che un video apologetico apologetico significa a difesa della verità e noi siamo chiamati a difendere la verità ma più che a difendere la verità quella di fare vedere mettere in enfasi la verità perché la verità si difende da sola ma la verità ha bisogno di una voce gesù disse in giovanni 8 30 e 31 conoscete la verità e la verità vi renderà liberi per cui oggi voglio parlare non so se avete visto su facebook io l'ho pubblicato pure una enciclica che il papa l'attuale papa Bergoglio ha emanato ha scritto che si chiama enciclica dove dove dice che tutti siamo fratelli che cos'è un'enciclica per quelli che non lo sanno magari un'enciclica è una lettera apostolica indirizzata dal papa ai vescovi e a tutti i fedeli del mondo quindi una lettera dove il papa sta scrivendo a tutti e sta dicendo ehi ragazzi guardate che ho avuto un'altra rivelazione voi sapete che ogni papa ha aggiunto sempre un'enciclica un'eresia un'eresia tipo l'adorazione a maria la preghiera per i difondi ogni papa che è venuto ha aggiunto in questa enciclica hanno aggiunto queste false dottrine falsi insegnamenti che non sono insegnate nella bibbia per cui l'ultima l'ultima pensata di Bergoglio è questa enciclica che ha fatto giorni fa ma è proprio successo giorni fa ho visto ho visto su facebook me l'hanno proposta questa cosa e ho visto che lui l'ha pubblicata proprio giorni fa non mi ricordo se proprio quando è stato però questa enciclica 3 ottobre ecco 3 ottobre 2020 questa enciclica questa enciclica questa lettera apostolica apostolica che poi lì si adempie apocalisse 22 dice che hai fatto bene alla chiesa di efesini paolo diceva e gesù diceva diceva tu hai messa alla prova coloro che si dicono apostoli il papa si dice che è un apostolo ma li ha trovati bugiardi come si può provare la persona che è bugiarda quando non si attiene la si attiene alle verità delle sacre scritture la bibbia quindi questa enciclica che ha fatto il papa dicendo siamo tutti fratelli tutti sembra una cosa molto bella siamo tutti fratelli quindi lui non ha proposto altro che era così chiamata la fratellanza universale tutti siamo fratelli quindi significa che siamo tutti di uno siamo figli di uno stesso padre beh la bibbia non insegna questo la bibbia non insegna questo purtroppo anche in certi ambienti evangelici viene insegnato questo come sia la falsità non è che entra solo le chiese cattoliche la falsità entra nelle chiese evangeliche la falsità entra dove la verità non è amata e la verità e le sacre scritture la verità è gesù la verità è la parola di dio gesù lo disse voi conoscerete la verità la verità vi renderà liberi giovanni 8 30 31 32 se dimorate nella mia parola disse gesù sarete veramente i miei discepoli e conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi giovanni 8 30 31 a seguire per cui questa encicla di questo papa dice siamo tutti fratelli quindi la fratellanza universale ma non è vero perché quando ad amedeva peccarono ad amedeva non avevano più la natura di dio ma la natura satanica infatti in genesi 3 15 gesù disse al serpente dio disse al serpente io porrò nemicizia fratella donna fra il tuo seme il seme di lei esso ti schiacci dal capo e tu farirai il suo calcagno quindi da dagli albordi la genesi dall'inizio della genesi vediamo che ci sono c'è il seme di dio e il seme del diavolo io porrò dice il signore io porrò nemicizia e la donna fra te e la donna aspettate che tolgo internet se non mi si abbassa io metterò in amicizia però in amicizia dell'ebraico è guerra io farò guerra tra te e la donna tra il suo seme e il seme di lei quindi c'è guerra tra la vera chiesa e la falsa chiesa non è vero che siamo tutti i figli di uno stesso padre c'è il seme di dio c'è il seme del diavolo come dice in genesi 3 15 c'è il seme di satana figli del diavolo c'è il seme di dio figli di dio in giovanni capitolo 1 verso 12 giovanni dice ma tutti coloro che lo hanno ricevuto egli ha dato l'autorità di diventare figli di dio quelli cioè che credono nel suo nome quindi figli di dio si diventa non si nasce figli di dio si diventa figli di dio e tutti coloro che lo hanno ricevuto chi riceve cristo diventa un figlio di dio perché riprende il seme di dio che è gesù il seme di dio invece c'è satana che è il suo seme ai suoi figli non tutti siamo figli dello stesso padre quindi chi riceve gesù nel proprio cuore riceve il seme di dio e diventa figli di dio figli della stessa padre quindi è sbagliato è antiscritturale quello che sta dicendo Bergoglio che tutti siamo figli di dio ma dove vanno a prendere queste cose li vanno a prendere quando non leggono la bibbia primo giovanni capitolo 3 versetto 10 dice da questo si riconoscono i figli di dio e i figli del diavolo notate ci sono i figli di dio e i figli del diavolo Bergoglio dice il contrario di quello che dice la bibbia perché è un falso profeta Bergoglio primo giovanni 3 versetto 10 dice da questo si riconoscono i figli di dio e i figli del diavolo chiunque non pratica la giustizia non è da dio e neppure lo è chi non ama il proprio fratello per cui la bibbia dice tutto il contrario di quello che dice Bergoglio Bergoglio nella sua enciclica ha detto siamo tutti figli di dio figli dello stesso padre non è così Bergoglio Satana è tuo padre e non è il mio padre non abbiamo lo stesso padre Bergoglio non abbiamo lo stesso dio ma io chissà che qualche uccelletto può far avere questo video alla zona bergogliana e capire che ma molti cattolici lo stanno comprendendo attenzione molti cattolici di buona volontà stanno comprendendo che Bergoglio è un anticristo immaginate Bergoglio che dice io non giudico gli omosessuali chi sono io per giudicare? falso profeta ma se lo stesso San Paolo parla contro l'omosessualità e gli dice che gli omosessuali se continuano entreranno nel regno di Dio Paolo allora che fa? giudicato quando ha detto che gli omosessuali e chi pratica queste cose non entra nel regno di Dio sta giudicando Paolo o sta semplicemente dicendo la verità? quindi tu Bergoglio non puoi dire la verità perché non c'è verità in te perché tuo padre che è Satana è stato dice la Bibbia omicida fin dall'inizio e lui non è stato mai fermo nella verità qualche scrittura avevo letto di questa affermazione infatti Giovanni 8 44 dice voi siete dal diavolo che è vostro padre e volete fare i desideri del padre vostro e gli fu omicidia fin dal principio e non è rimasto fermo nella verità perché in lui non c'è verità quando dice il falso parla del suo perché bugiardo è padre la menzogna notate che qui il diavolo ha dei figli e lo dice qui voi siete dal diavolo Giovanni 8 44 che è vostro padre quindi non è vero che siamo tutti figli dello stesso padre c'è il padre, il padre nostro che ne c'è il Dio c'è il padre che è Satana e ha i suoi figli come Dio disse io metterò in nemicizia fra te e il seme fra te e il tuo seme fra il seme di lei della chiesa e il tuo seme Satana quindi ci sono i figli figli del diavolo ci sono figli di Dio non è vero quello che dice Bergoglio è un falso profeta state attenti uscite da queste Babiloni uscite dalle chiese cattoliche uscite dalle chiese protestanti che dicono le stesse cose che dice Bergoglio contrariamente a quello che dicono la Sacra Scrittura che tutti siamo figli di Dio non è così non è assolutamente così quindi primo Giovanni 3.10 dice da questo si riconoscono i figli di Dio e i figli del diavolo in questa terra ci sono i figli di Dio e ci sono i figli del diavolo ma poi vediamo anche Luca 16.8 dice il padrone lodò il fattore disonesto perché aveva agito con avvedutezza poiché i figli di questo mondo nella loro generazione sono più avvenuti dei figli della luce notate qui nel Bibbia che dice che ci sono i figli della luce e i figli di questo mondo come fai a dire che la fratellanza come fai a proclamare l'enciclica dicendo confermando la fratellanza umana ma queste sono false dottrine falsi insegnamenti quindi queste dottrine bergogliane sono veramente anticristo contrarie al Cristo quindi fratelli, sorelle, amici fratelli cattolici che avete citato Gesù con il cuore rendetevi conto che questo capo della chiesa chiamato capo della chiesa Bergoglio è un anticristo e voi lo sapete ve ne accorgete che va contro le scritture quindi questa enciclica è satanica tutti siamo figli di Dio tutti veniamo dallo stesso padre non dice questo la Bibbia primo corinzi 2.12 Paolo dice noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo ma lo spirito che viene da Dio affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio quindi ci sono due spiriti in questo mondo c'è lo spirito di questo mondo che è lo spirito di Satana e poi c'è anche lo spirito di Dio noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo ma lo spirito che viene da Dio quindi c'è lo spirito che viene da Dio e c'è lo spirito che viene da Satana ci sono i figli di Dio ci sono i figli del diavolo Chi non riceve Cristo è un figlio del diavolo, con tutta la prima comunione, la cresima e il battesimo, con tutto che anche se vai nelle chiese evangeliche, se tu non hai ricevuto Cristo, tu sei un figlio del diavolo. Galati 3, 26 dice, perché voi tutti siete figli di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù. Galati 3, 26, perché voi tutti siete figli di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù. Se tu non hai fede in Cristo Gesù, tu non sei un figlio di Dio, come disse in Giovanni 1, 12, quelli che lo hanno ricevuto gli hanno dato il diritto di diventare figli di Dio. Per cui noi siamo figli, non perché siamo nati in questo mondo, noi siamo figli se abbiamo fede in Gesù Cristo, come dice Galati 3, 26, perché voi tutti siete figli per mezzo della fede in Cristo Gesù. Niente Gesù, niente figli di Dio. Non hai ricevuto Cristo, non sei un figlio di Dio. Hai la natura del diavolo, hai la natura di questo mondo, hai lo spirito di questo mondo. Efesini, capitolo 1, versetto 5, dice, avendoci predestinati ad essere adottati come suoi figli per mezzo di Gesù Cristo, secondo il beneplaccio della sua volontà, dice che noi siamo diventati figli di Dio per mezzo di Gesù Cristo. Non perché sei nati in questo mondo, non perché condividi la stessa natura, lo stesso mondo delle altre persone. No, si diventa figli se si riceve Cristo, che è il seme di Dio. Come all'inizio Dio aveva detto, metterò inemicizia fra il tuo seme e il seme della Chiesa, il seme di lei. Quindi c'è il seme del diavolo, c'è il seme di Dio, che è il seme di Dio, è Gesù Cristo, la parola di Dio. Per cui concludo questo mio video, state attenti a questo diabolico, diabolica enciclica bergogliana che sta proclamando la fratellanza universale. È una falsa dottrina, è un falso insegnamento che svia le persone. Per cui lui vuole dire, per esempio, che il mio padre celeste è lo stesso padre degli islamici. Perché si parla di fratellanza universale, quindi gli islamici, secondo la visione di Bergoglio, abbiamo lo stesso padre. Quando gli islamici continuano a ammazzare un sacco di cristiani, a tagliare le teste a un sacco di cristiani. Bergoglio, forse sarà tuo padre, forse avete lo stesso spirito degli islamici. E infatti tu ti sei andato a inginocchiare a queste persone, a condividere la loro fede. Io spero che i cattolici di buona volontà aprino gli occhi per capire chi è questo massone, chi è questo anticristo di Bergoglio. Perché sta proclamando degli insegnamenti contrari alla parola di Dio. Leggete i versetti che vi do, condividete questo video se lo volete. Se non volete, non mi scrivete, non mi disturbate a scrivermi, a dirmi qualcosa, perché ci sono due secondi a mandarvi a quel paese, ci sono due secondi a bloccarvi, perché il mio motto è scritto nella Bibbia, la discussione è chiusa. Se insistete, io poi mando le persone al paese delle meraviglie. Quale paese è? È il paese delle meraviglie, tant'è che il mio profilo Facebook, poco fa, ho aggiornato la mia biografia, ed ho scritto così. È scritto nella Bibbia? Punto di domanda. Allora la discussione è chiusa. Se non sei d'accordo, vai a quel paese. L'ho messo qui come intestazione, qui l'ho messo qui. Se è scritto nella Bibbia, basta, quello è, io non voglio, è la mia protezione, la Bibbia è la mia protezione, la Bibbia è la mia chiesa, la Bibbia è la mia dottrina. Qui gira tutta la mia vita. Bene cari, se volete condividete questo video, se non volete, tanto era gratis. Ripeto, non mi scrivete cose contrarie, non perché non vogliasse contraddetto, ma io perché non ho tempo da perdere con sciacalli, con gente superficiale, carnale. Che Dio vi benedica, un abbraccio a tutti.